Continua a salire il numero dei positivi al Covid-19 a Fasano. Sono attualmente 320 i casi di contagio nella città della Selva. Sono 43 invece i positivi nella casa di riposo Regina Pacis, numeri che restano preoccupanti e che hanno già nei giorni scorsi indotto il sindaco Zaccaria a chiudere le scuole, il mercato settimanale e a vietare lo stazionamento in strade e piazze. Il primo cittadino di Fasano ancora una volta fa appello al senso di responsabilità della sua comunità chiedendo il rispetto delle regole a difesa di tutti, dice il nuovo dato deve spingerci a non abbassare la guardia soprattutto ora. Siamo in costante collegamento con le autorità sanitarie per monitorare in maniera puntuale la situazione. Poi il sindaco Zaccaria spiega che un'eventuale istituzione della zona rossa comunale è di competenza esclusiva del presidente della regione che adotta tale decisione su proposta della ASDA in base al calcolo dell'indice RT e i comuni. Chiaro il riferimento del primo cittadino al fatto che in città si vocifera sempre con più insistenza di un'eventuale chiusura della città. In questo weekend saranno intensificati controlli sul tutto il territorio fasarese, città, marine, selva per evitare pericolosi assembramenti che purtroppo si sono registrati già nello scorso weekend.